Succhi International è qui al Bricodei perché crede fortemente in questo evento come elemento di successo e comunicativo verso i propri clienti. Noi ci rivolgiamo ai clienti del mercato DIY, quindi soluzioni di fai-da-te organizzate o indipendenti. La cosa più importante è legata al tipo di cliente che è assolutamente presente in questo tipo di evento. La scelta dei due giorni per me è stata fondamentale nella scelta di partecipare al Bricodei perché l'anno scorso l'abbiamo trovata valida in un giorno ma veramente troppo corta. I due giorni hanno secondo me la giusta durata per permettere a tutti i clienti di partecipare.